La FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, ha scelto Pesaro, capitale della cultura, per la sua assemblea distrettuale del centro Italia che interessa le associate di Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Una due giorni coordinata dalla Presidente e Vicepresidente Grazia Marino e Cattiuscia Ceccarelli, che ha visto nel municipio pesarese una serie di appuntamenti volti ad approfondire tematiche trasversali all'autonomia femminile. A cominciare da quello dell'indipendenza economica con un partecipato convegno alla presenza degli interventi della docente universitaria Germana Giumbini, della business coach Tarin Di Ventura, della giornalista Annalisa Monfreda e della Presidente dell'Osservatorio di Genere Claudia Santoni. Pesaro, città della cultura, la FIDAPA è un movimento d'opinione e la cultura è la base anche della nostra mission e soprattutto quella dell'empowerment femminile e quella dell'uguaglianza di genere. Quella dell'indipendenza economica è purtroppo ancora oggi una tematica che va affrontata ed è primaria. A livello nazionale, per quello che riguarda anche il nostro distretto che abbiamo fatto comunque tramite il progetto della Vicepresidente Cercatiuscia Ceccarelli, Unva De Mecum, ha portato alla luce ovviamente ancora oggi delle grandi disparità di genere e ovviamente la mancanza prima di tutto di una conoscenza sull'educazione finanziaria ma soprattutto abbiamo un tasso veramente alto di donne che non hanno occupazione. E questo credo che sia importante sia per me come Presidente del distretto ma anche come facente parte di un'associazione che conta 10.000 soci in Italia portare avanti questo tipo di tematiche affinché si possa scuotere sia a livello istituzionale e soprattutto a livello politico questo divario. Il fatto di fare un'assemblea all'interno di un palazzo istituzionale per noi è molto importante sia come federazione che anche come Presidente del distretto.